Ciao a tutti, mi chiamo Andrej Kotarek, sono un patinatore su ghiaccio della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. E oggi vi faccio vedere come si fa un tre. Un tre è un elemento che usiamo per girare su un piede dal davanti all'indietro. Lo faccio vedere. Come prima cosa facciamo una bella spinta. Braccia e gambe, piego, spingo col piede destro. Come seconda cosa vediamo come girare dal davanti all'indietro, usando la torsione tra spalle e le anche in questo modo. Così potete provarlo da fermi. Uno e due. La terza cosa importante è l'appoggio sulla lama. Nel tre esterno avanti, la disposizione del peso è più vicino alla punta, non proprio sulla punta, ma la parte anteriore della lama. Lo rivediamo. E così si fa un tre. E mi raccomando, allenatevi in sicurezza. Alla prossima! E così si fa un tre. E mi raccomando, allenatevi in sicurezza. Alla prossima! E così si fa un tre. E mi raccomando, allenatevi in sicurezza. Alla prossima!